Allora, qua, allora, entriamo qua dentro Allora, vediamo che è la scuola Penso che ci vuole sfidare Sì, ecco, 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 ci vuole sfidare Allora No, 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 non ti vuole Ok Corri Ora non ho idea se si può passare Qua no Non mi fa passare ancora No, no, dai No, dai No, dai Ecco No, dai Ecco No, dai No, dai No, dai Ah, penso che dobbiamo andare da quello a là Che Che stava Insieme a quella che abbiamo appena sfidato Andiamo a curare il bug Che stava Appena Odda Sì, ecco Al segura si deve entrare? Questa è la palestra? Penso Ah, penso che il mio Pokémon è acqua Ecco Si è aperta la prima porta Ancora sull'acqua? Ah, devo dire... Non è mai spesso No, se vi arrivàी, mia storia C'è vita? il cameriere con i coppia borghi il cane ma sono il mio super cucchietto sfilato a livello 2 che cosa si avvicina tutti anche se non fa niente che cosa si avvicina ok no vodio si rende bani del cuci da sfilato no 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 ok no 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 ho sconfitto il cameriere il cameriere ai cameriere ok penso che dobbiamo vedere chi distrugge l'acqua no no erba no mazzo no 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 qua oh vabbè qua sicuramente sarà il fuoco vabbè qua sicuramente sarà il fuoco non no 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 ok non è già dalla capire di oggi non è già da la capire di oggi Attacca! Vedici? Ragazze! Ehm... Ok. Ora andiamo su fuoco. Ok. Allora, qui finisce la prima guida. No, la prima... Ok. Ora, alla prossima. Ciao!